Buongiorno a tutti! Oggi volevo iniziare questo What Hating a Day oltre che mostrandovi quello che stavo bevendo salutando Valentina che è una ragazza che mi segue tra l'altro è di Parma quindi ciao Vale, te l'avevo promesso e mi sono ricordata di salutarti quindi se vi volesse interessare basta che me lo scrivete vi saluto tutti volentieri anzi grazie a tutti i nuovi iscritti stiamo aumentando tantissimo questi What Hating a Day soprattutto vi piacciono tanto quindi continuo a farli anche per questo allora stamattina vado di uno shake al cioccolato super proteico super completo con vitamine bacche insomma completo di tutto per iniziare la giornata al meglio e darmi uno slancio in più perché stamattina sono svegliata un po' a mo' di bradipo quindi forza e carica per iniziare la giornata e niente si parte merenda di oggi con merenda diciamo spuntino anche perché sono le dieci e mezza con un buon succo d'arancia spremitura diretta quindi super buono e non da concentrato mi raccomando stateci attenti quando lo scegliete e niente spuntino per due pronto aspettiamo giù che torna e beviamocelo pranzo di oggi con riso venere questo è il meraviglioso riso nero a me non fa impazzire cucinarlo però in realtà tutte le volte che lo cucino mi pento delle volte in cui non l'ho fatto perché è super aromatico e buonissimo noi poi nell'acqua di cottura ci mettiamo anche un po' di spezie tipo pepe noce moscata cannella chiocchi di garofano viene super buono come tutte le altre cose poi qui abbiamo del curry e della salsa di ricotta salvia e rosmarino non avevamo la menta se no anche quella ci sta benissimo e niente adesso ci condiamo il nostro riso e pranziamo merenda di oggi con un bel tè caldo questo è l'english breakfast ci ho messo un po di limone super buono e una tortina gli avanzi della torta che abbiamo preparato è super buona leggera l'ho tagliata a cubettini perché mi è comoda sia per la colazione che per le merende e questa si inzuppa benissimo trovate la ricetta sul blog e è già uscita anche sul canale quindi la potete trovare anche lì fatemi sapere se la provate tra l'altro perché a me è piaciuta un sacco quindi sono curiosa di vedere se la provate e in che varianti la fate stasera cenetta coccolosa per me perché ci sono le patatine novelle fatte in padella con il cipollotto e poi due uova che attualmente sto cuocendo meno il tuorlo e mi sta piacendo comunque lo stesso molto quindi buonissima la mia cena fatemi sapere che cosa avete mangiato voi oggi spero che questo video vi sia piaciuto io vi mando un bacione e lasciate tanti like se volete vedere altri vuote i tina dei ma so che vi piacciono un sacco e ci vediamo con il prossimo video ciao ciao